C'è stato un colpo di Stato in Europa, questa che è la Costituzione della Repubblica Italiana, non dico che possiamo stracciarla, ma quasi, il colpo di Stato c'è stato, non è una battuta, non ne ha parlato nessuno nei media, ed è l'argomento di questa sera, si chiama Trattato di Lisbona, è un vero colpo di Stato europeo fatto alle spalle di tutti i cittadini, noi italiani, tedeschi, francesi, di tutti. L'argomento di questa sera è questo e voglio solo dire per chi seguirà questa cosa su YouTube che l'argomento è estremamente serio, se uno non è disposto, non ha la volontà di seguire un'oretta o un'oretta qualcosa di presentazione, è meglio che faccia altre cose, come mi è stato suggerito Guardi Zellig. Allora, ricomincio da quello che ho appena annunciato, la Costituzione italiana non è più sovrana, il governo italiano non è più sovrano, il Parlamento italiano non è più sovrano, le leggi italiane di conseguenza non sono più sovrane e noi non siamo più giuridicamente italiani, siamo diventati cittadini di un'altra cosa, ma non siamo più, dal punto di vista giuridico, degli italiani al 100%.